ciao a tutti e tutte sono diana di apri amici cani guida oggi siamo a torino in piazza castello per festeggiare la giornata nazionale dei cani guida dire a tutti ea tutte che sono dei compagni di vita incredibili e vogliamo festeggiare con loro e per loro per ogni giorno che ci dedicano eccoci alla giornata nazionale del cane guida alla quale partecipa apri con la sua scuola fantastica di amici cani guida i nostri cuccioli sono qui con noi sono insieme a tutti i non vedenti a tutti i disabili visivi per sensibilizzare l'opinione pubblica e per dire che i cani guida sono importanti sono importanti per la mobilità di tutti noi è molto importante riunire le scuole cani guida e le persone cieche con i loro cani in questi momenti per ricordare alcune cose importanti e che tante volte vengono dimenticate ad esempio che i cani guida possono entrare in tutti i luoghi pubblici e privati aperti al pubblico fin dal 1974 perché perché sono gli occhi di chi non vede questo ovviamente deve essere ricordato come diritto